Giuseppe Marenco vive da quasi cinque anni attaccato ad un respiratore. Nonostante si nutra con un sondino e comunichi attraverso un lettore ottico, il 55enne di nocere inferiore non ha perso le speranze. Ogni giorno, dal suo letto di sofferenza, lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Una malattia tremenda che non gli spegne l'entusiasmo e la voglia di stare vicino alla sua famiglia, ai suoi amici e a tanti malati come lui. Solo che non è Giuseppe per andare da loro, ma sono loro a fargli visita a casa o a ricevere i numerosi pensieri che pubblica giornalmente sul suo profilo Facebook. Giuseppe Marenco in questi anni ha scoperto anche la passione per la poesia, versi apprezzati non solo dai suoi familiari, che lo hanno spinto a fare qualcosa per sé per la ricerca contro la SLA. È nata quindi l'idea, sposata dall'Associazione Urbe, di realizzare un calendario, 12 foto con 12 poesie per ognuno dei mesi dell'anno, testi carichi di aspettative per una vita migliore, di pensieri per chi gli sta vicino, ma anche al mondo spesso indifferente. Durante il suo percorso di vita è stata sempre una persona molto attiva, quindi chiaramente la SLA è una malattia che purtroppo blocca i muscoli, ma non blocca il cervello. Ma forse questa è la cosa più brutta, diciamo, perché lui è sempre molto lucido, molto attivo. È come tenere una persona, diciamo, incatenata. Lui dal suo letto ha deciso di iniziare questo percorso che lo ha portato adesso a fare questo calendario, chiaramente per far conoscere la malattia, per sensibilizzare le persone alla conoscenza proprio di una malattia che oggi in Italia colpisce circa 7000 persone, ma purtroppo i numeri sono in aumento, soprattutto in una popolazione con un'età anche abbastanza giovanile. Quindi lui continua comunque la sua lotta dal letto. Ha avuto quest'idea di questo calendario e adesso sta anche iniziando a scrivere un approccio, un libro che poi in futuro ha intenzione di pubblicare. Papa non si arrende, questo è anche un esempio per chi soffre anche di malattie minori. Sì, lui non si arrende e chiaramente non si arrenderà. E' una cosa che lui lo dice sempre, lo posta anche spesse volte su Facebook, che è un mezzo attraverso il quale lui comunque continua a comunicare con i suoi amici. Parlare di SRA significa avere il coraggio di rappresentare i bisogni delle famiglie, i bisogni degli ammalati. E quindi tutte le iniziative da questo punto di vista, per me è l'occasione anche per conoscere questa associazione, sono molti giovani, ho avuto modo di vedere. E quindi quando si ha il coraggio di trattare tematiche così importanti, significa che il futuro è garantito perché c'è l'attenzione da parte delle generazioni nuove. L'associazione Urbe ha fortemente voluto questa iniziativa in collaborazione con la dottoressa Pinesposito e con la famiglia Marinco. Questo calendario nasce appunto per sensibilizzare, sia sotto il piano medico-scientifico, ma soprattutto sotto il piano socio-assistenziale, questa malattia. L'associazione Urbe è molto vicina a questi principi e questi valori. Infatti questa iniziativa, Schiacciamo la SLA, segue altre iniziative che l'associazione Urbe ha già svolto da un anno a questa parte. Logicamente questa non sarà né prima né l'ultima delle iniziative e infatti invitiamo tutte le persone che ci ascoltano a seguire gli eventi che faremo prossimamente.